Ciao amici, volete una pelle sana, curata, uniforme e radiosa? Magari, radiosa e vellutata come le grandi attrici? Allora questo video fa proprio il caso vostro. Ascoltate con attenzione, le accortezze da seguire sono poche e in realtà semplici. Lo stress è uno dei peggiori nemici dell'invecchiamento della pelle. Oltre allo stress, anche i fattori ambientali spengono e rovinano la pelle. Troppo caldo, troppo freddo, inquinamento, ritmi frenetici, anche rumore e affollamento. Lo so che le giornate sono piene per tutti noi, ma cercate di ritagliarvi del tempo di qualità per rigenerare voi stessi e la vostra pelle. Vediamo allora insieme cosa fare per avere una pelle radiosa e sana. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. 1. Yoga e meditazione. Il movimento dello yoga, coordinato alla respirazione, ossigena i tessuti e anche la pelle e la meditazione elimina lo stress e riduce le tensioni. In più, yoga e meditazione sono praticabili ovunque e aiutano il corpo e la mente. 2. Dormire. Dormire poche ore incide sul colorito spento della pelle e sul suo invecchiamento. Riposare dalle 7 alle 9 ore invece aiuta a mantenere la pelle luminosa e sana. Di notte, infatti, c'è il picco di produzione del collagene, alleato fedele della pelle. 3. Nutrizione. Seguire un'alimentazione sana permette di avere il giusto apporto di nutrienti. Per esempio, mela grana e mirtilli vantano proprietà antiossidanti. Tè, macchà e zenzero hanno proprietà antiinfiammatorie e depurative. Carote e zucca contengono la vitamina A, perfetta per illuminare la pelle. Se siete alla ricerca di superfood, ottime le bacche di acai e l'alga spirulina. Tanta acqua significa meno rughe. Bevete e idratatevi bene. In questo modo, eliminerete le tossine e le impurità e aumenterete l'elasticità della pelle. 4. Ginnastica. Mai già parlato dello yoga? Infatti, questa volta mi riferisco alla ginnastica del viso. Tonificare i muscoli sotto la pelle è un modo strepitoso per mantenerla liscia e soda, quindi radiosa e sempre giovane. Il modo migliore per fare la ginnastica del viso è seguire il mio metodo chiamato metodo visolift, un lifting naturale non chirurgico. Trovi le informazioni qui in questo video e in descrizione. Bene amici, oggi abbiamo visto come avere una pelle sana e radiosa senza fatica. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ed eccolo il regalino di oggi, la scheda dei consigli per una pelle in salute. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.